Eccoci a Gallipoli, ecco la fortezza meravigliosa, guardate che bella cosa, guardate che bella cosa, mare, mare, questo è un ponte dedicato a Giovanni Paolo II, barche di pescatori, cittadina di mare, ancora castello. L'Umari, l'Umari di Umari di Gallipoli. Una promozione turistica senza precedenti, per di più gratis e con il testimonial più popolare e amato d'Italia. Gallipoli non poteva immaginare né chiedere di più. Fiorello sta twittando da ore decine di foto della città bella e anche questo video. Vicoli, 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 vicoli che danno sul mare. L'Umari, l'Umari di Umari di Gallipoli. Adesso andiamo, entriamo in un locale che ci offrono un caffè. Buongiorno, 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 caffè offerto, grazie. Ma guarda che carino sto costo, guarda che roba. A partire dallo stradario ha immortalato ogni tappa, la chiesa delle carmelitane scalze, la cattedrale di Sant'Agata, la strada di ingresso al centro storico a due passi dal porto, la fontana greca e ancora il centro storico che si affaccia sul mare con il commento stupenda hashtag Gallipoli, fino allo stupore quando si è accorto che a Gallipoli ci sono pure i grattacieli. Lo showman sta promuovendo da giorni il Salento, dove è in scena con il suo tour teatrale L'Ora del Rosario. Nei giorni scorsi è immortalato con lo smartphone Brindisi by Night, con foto di Corso Garibaldi, del lungomare, della fontana di Piazza Cairoli e anche di un gustoso riccio di mare per finire con un selfie davanti ad un ristorante. Dal nord al sud Salento ora Fiorello è approdato e arriva all'Oionio e per fortuna il suo entusiasmo genuino e incontenibile lo sta manifestando su Twitter per la gioia di tutti i salentini. Giovedì 19, venerdì 20 marzo sarà in scena al Teatro Italia di Gallipoli di cui ha ovviamente pubblicato una foto. Nello scatto la platea è vuota ma sarà sicuramente pienissima. Fino all'apertura del Sipario però lo spettacolo sono gli scorci di Salento che attraverso i suoi occhi e il suo smartphone stanno facendo il giro del mondo. Interno casa stupendo, guarda che roba. Ricoletti, Ricoletti, Ricoletti di Gallipoli, guarda che meraviglia. Mercato, mercato di Gallipoli, mai visto un mercato così ordinato? Scorci, scorci gallipolesi, ciao.